Si è sfiorata una tragedia per il rocambolesco incidente avvenuto ieri a Monte San Giacomo nei pressi della villa comunale Rico 40 che è sempre molto frequentata da ragazzi e famiglie con bambini, soprattutto di domenica pomeriggio. Un'auto, una Fiat Stilo con a bordo un'intera famiglia di origini rumene è finita fuoristrada e poi in una piccola scarpata che si trova proprio di fronte ai giardinetti. Tutto si è concluso con tanta paura per chi ha assistito alla scena e anche perché si trovava dentro la vettura, un uomo con lui la moglie e due figli, tutti rimasti illesi e un'altra donna che invece ha avuto la peggio, ferita anche se non in modo grave, solo per lei è stato necessario il trasporto a Luigi Curto di Polla, non è in pericolo di vita. Dalle ricostruzioni fatte e dalle prime testimonianze di chi c'era è emerso che il conducente dell'auto su Viale Oboken nei pressi dell'incrocio con Vico Cavallaro per cause ancora non chiare ha perso il controllo andando ad impattare prima contro il marciapiede che costeggia lo spazio con le altalene per poi l'auto essere sbalzata sul lato opposto e lì solo per un caso ha evitato un palo della luce finendo oltre la siepe. Fortunatamente nel ribaltarsi è stata bloccata subito da un albero scongiurando la tragedia. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di sala Consilina guidati dal caporeparto Eugenio Siena per liberare la donna, unica ferita, dall'abitacolo e dei sanitari del 118 per prestarle soccorso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sassano per ricostruire la dinamica dell'incidente.